ciao a tutti benvenuti e bentornati allora l'equipaggiamento non è al top però non è neanche male ci abbiamo una spada penso gli manchi soltanto a fila densa 5 e aspetto di fuoco e poi è a posto piccone op l'arco potenza fiamma di strippi dai manca l'impatto e lascia vabbè ci interessa relativamente io penso che possiamo finalmente tornare nel nether a farsi farci un giretto direi mai potrebbe servire anche se adesso mi sa che nel nether si trova il legno perché se quel legno che non brucia l'azzurro forse non sono esperto del nether attuale a prendiamo pure l'accendino in caso un cazzo che spegnesse il portale e poi forse è arrivato il momento di fare quella cosa che dicevo alzare un po il portale magari lo porto più alto così non lo spano così in basso farmi un percorso tipo forse se parto dalla sopra in meglio il pregio dell'arco con infinità che non ti resta troppo a preoccupare le frecce anche questo qui avere il fuoco è inutile quindi anche se l'arco non c'ha l'arco della fianca se la spada non c'ha aspetto di poco poco male allora cerchiamo di farci la via per salire decente 81 107 81 39 105 di forse porto a 10 cibo un po poco se se voglio farmi un bel giro lì c'è la crosta mi serve crostone e non mi dispiacerebbe blitz road nether wart ovviamente anche aneterita ma non che tanto adesso che ancora non abbiamo fatto le cose op quindi voler darmi ineterita ancora mi sembra un po presenzioso ok forse se porto il portale lassù è meglio però prima ci devo arrivare provo a salire dalla una cosa mi sono scordato aspetta torno indietro perché quando si va nel nether è bene portarsi qualche ender per perché se si cade nella lava mentre si sta accadendo se sei dall'alto un ender per ti può osservare la vita perché si deve trasporto oppure ti può aiutare a attraversare dei punti un po scomodi o addirittura mentre stai precipitando la lancia oppure se sei già nella lava esci in fretta che un'armatura così forse un pochino la legge almeno anche se muori magari muori sul terreno e può andare a recuperare gli oggetti meglio che muori della lava e perdere tutto comunque devo anche salire l'ender però non vedo proprio la superficie da faccio un passo d'acqua ecco fatto ho raggiunto le stesse coordinate del portale del nether però a un'altezza più alta lo voglio fare qua così poi mi farò 80 81 sì così poi mi farò una stanza diciamo safe uno dove qua devo scavo ancora un po' magari fatta con le slab però qui al sicuro all'interno di di questa stanzetta di questa grotta 1 2 e mancano soltanto qua mazza 1 2 e 3 a posto adesso possiamo tornare a casa e se per caso ci riporta giù andiamo anche a sbontare così recuperiamo l'ossidiana a posto intanto per tornare a casa ce l'abbiamo un po' di insidiana serve sempre quello non si avvicina qua stavo troppo in basso non mi piaceva e poi troppo l'avantorno arrampicate difficili tutti i slime che sponavano facciamo che cosa come sono abituato anche se è cambiato tutto ok questa zona se voglio poi mi ci faccio una tipo una scaletta per scendere anche per prima o poi toccherà scegliere altezza scendere a l'altezza 15 mi pare che al dì che si trova la netherite mi pare che ancora non è presto diciamo andiamo al nuovo portale ci faremo la nostra base e da lì partiremo in tutte le direzioni per andare a esplorare in sicurezza da oggi siamo qua nel dether poi qui farò la stanza magari tutta salabata così non ci spavano proprio nessuno devo stare attento quando mi allargo a non incontrare l'altezza quindi qui già so che si esce quindi di qua ci potrà essere una porta però una porta utile quindi magari qua teniamo tappata il corridoio lo facciamo tipo qua si va bene possiamo fare una porta di cina ma un altro blocco sento pure lo slime calcoliamo un po di quarzo che quando si incontra non fa mai male ovviamente ha cambiato il bioma l'altezza allora forse potremmo cercare di uscire da da questo tunnel di un po' però lì c'è tutta parete questo ho fatto il pozzo del fatto e morì eh sì adesso dobbiamo sperare di sbucare da qualche parte su un piazzale sullo spiazzo vediamo un po' esatto così i piglin ce ne è uno solo se non l'attacco mi attacca c'è stato qualcosa mazzo veloce c'era qualcosa relativo all'oro se prendo l'oro in mano se calma se gli do un po' d'oro o corrompo c'era qualcosa relativo ai piglin ma a piglin non mi ricordo che cosa allora facciamo una bella cosa tanto ci siamo portati il legno apposta per essere pronti a ogni evenienza quindi qua mettiamo il nostro banco di lavoro possiamo fare i lingotti ora che ci abbiamo i lingotti facciamoci che ne so quello è quello che occupa di me i piadini facciamoci i pittini d'oro mettiamoli non è più stile mi sembra come si prova se non è più stile faccio così spacco questo non è più stile quindi gli diamo i lingotti gli piace che mi ha tirato la ghiaia questo posso rompere questo mi riprendo mi ha tirato e qui vuoi essere interessante allora aspetta un attimo buttiamo la spazzatura qua dentro quindi un heather rack penso che le basta uno stack questo butto 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 ok dove sei piglin ma che mi è scappato quello baratta ecco di ciao 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 che mi dai carica di fuoco dai dammi qualcosa di buono però quello è un pigman normale invece non so se potevo attaccarlo perché non sapevo se se poi magrano tutti cosa che vorrei evitare questa è buona questa non è buona questa è ottima le pelli però io ti do tutti non so che mi ha dato lui mi pare che è interessato solo a loro quindi se spacca a glostro non metterà di niente basta che cerco di non hittarlo tanto a glostro non mi serviva chissà che fanno non hai frecce spettrali non so proprio un bebi ti ha bebi guarda che ti do visto che sei piccolina ti piace riporti a papà ti è tu te la prendi prima non faceva niente però prima ero stile vabbè lasciami in pace guardiamoci intorno mi servirebbero i blades però non so se ma sento di entrare dentro una fortezza lì c'è oro qui è pieno di mob qua quello è il mare di lava allora lì ci posso arrivare ma preferisco sempre arrivareci da un percorso sicuro perché se no mi perdo in un nether mi perdo sempre quindi se dal mio percorso un po' prima che è questo no questa è la cosa la secchia da spazzatura eccolo un po' prima tipo qua se ne sono formati un bel po' meno male che c'è i piedini davvero tipo qua dove ho formato questa cosa no se io facessi un percorso anche discendente la secchia Oddio, quello è soul sand. Quella mi serve. Come ci scendo laggiù senza fare la fine del source show? Con enderperla arriverei subito, però voglio fare un percorso. Allora, vediamo le marivacce. Vedete le sicurezze. Ecco fatto. Ci siamo. Allora. Non ho la pala, ma la posso fare di pietra, sempre grazie a quel legno che ci siamo portati. Vediamo che posso buttare. Questo si può buttare. Tre di questi si possono buttare. Già basta per fare questo. Posso fare la pala dei goble. Vuole pure fare d'oro, però facciamola così. Sì, dai, intanto. Già. 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 mi sono avvicinato troppo alla lava che buttiamo questo il mosto non so manco che non so se lo stile non so cosa affronta ma che cosa sei lo prende questa non so se lo tiro che sono i pesci del nether va bene ho preso l'altro cibo no c'è solo questo queste carote potrei prendere i funghetti se trovo pure quelli marroni la macchina del nether non mi interessa adesso mi sa che mi sono allontanato troppo non so dove sta il punto da cosa è avvenuto ritroviamo allora si è passata al di qua di questo e non ci volevo passare ho fatto tutto il giro lì da qua poi tornando indietro vabbè allora un bel bottino l'abbiamo fatto delle cose che volevamo ci manca soltanto la la blitz road per farla blitz power torniamo un po indietro adesso magari vado a posare il loot però almeno so che là c'è un altro bioma e posso scambiare i piglin magari girando lì posso vedere se trovo qualcos'altro intanto andiamo a posare tutta questa bella robina senza che ci moriamo e la perdiamo e se ho fatto tutto bene ci porta direttamente al nostro portale di casa eccolo eccolo allora adesso poso tutto ok abbiamo fatto una bella dormita e per oggi possiamo salutarci soddisfatti di quello che abbiamo trovato e ci vediamo domani con un altro video ciao ciao